Si può dire praticamente ultimata la prima parte dei lavori per la costruzione di quattro nuove aule nell'istituto Majorana di Capannori. Nel sopralluogo effettuato dal presidente della provincia Stefano Baccelli e dall'assessore provinciale alla pubblica istruzione e all'edilizia scolastica Silvano Simonetti, accompagnati dal preside del liceo scientifico Luigi Lippi, si sono potute constatare le migliorie apportate al progetto iniziale per rendere la struttura molto più flessibile. Abbiamo chiesto delle aule in più, però poi stiamo valutando l'offerta didattica complessiva della scuola, che ha bisogno non solo di aule ma anche di spazi per attività di vario tipo. Quindi avere uno spazio un po' più grande permette a questa struttura di essere flessibile e di essere più rispondente alle esigenze didattiche che sono comunque in continuo divenire. L'investimento di 380 mila euro ha permesso di realizzare la struttura con i criteri più avanzati della bioarchitettura, del risparmio energetico e dell'integrazione con il territorio, rivolgendo un'attenzione particolare nell'abbattimento delle barriere architettoniche, caratteristiche che hanno permesso alle nuove aule dell'istituto scolastico di entrare a pieno titolo nel progetto Tinergy. È il primo di quattro progetti che saranno realizzati dalla provincia di Lucca su 12 progetti in totale dell'Unione Europea, dei paesi del bacino del Mediterraneo, quindi un grande successo dei nostri tecnici.